Il Filo di Perle è un progetto dedicato agli studenti, alle studentesse e a tutta la cittadinanza e alla città di Pesaro. È un progetto che nasce collegato con un filo al Festival Perle che nel 2007 fu realizzato dalla provincia di Pesaro e Urbino e dedicato proprio al pensiero femminista e alle donne per le donne che cambiano. Oggi riprendiamo la storia di sette donne che hanno fatto la storia del pensiero femminista e che saranno raccontate nelle scuole presso la Olamagna del Liceo Scientifico Marconi e poi saranno anche portate per tutta la cittadinanza nel pomeriggio alla Biblioteca Bobbato di Pesaro. Quindi sette appuntamenti che partono il 20 dicembre con la storia di Olympe de Gouche e poi proseguono con Mary Wollstonecraft, Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir e Carla Lonzi. Quindi da dicembre 2023 fino a novembre 2024. Ci accompagneranno con la storia e con il pensiero e il loro testimone sarà raccolto da altrettante studiose che dialogheranno sia con gli studenti che con la cittadinanza rispetto a quello che ci hanno donato queste donne e che ancora oggi vogliamo fermamente ricordare perché soltanto conoscendo il pensiero delle donne che hanno fatto la storia delle donne è possibile da loro imparare e davvero attivare quella che il percorso donna ritiene da sempre sia importante, la rivoluzione culturale sui temi del femminile. È un percorso che abbraccia questo anno scolastico partendo questo 2023 il 20 dicembre che continuerà fino al 2024 e continuerà ancora nel prossimo anno scolastico 24-25. L'idea è di arricchire questo filo di perle sempre con nuove figure che possono creare la differenza e aumentare la conoscenza di quelle donne che hanno lasciato tanto alla nostra generazione e che vale la pena riscoprire. Racchiude un po' il senso di quello che con la Capitale della Cultura 2024 vogliamo trasmettere alla cittadinanza le nuove generazioni, l'idea che con la cultura, con la conoscenza la realtà si possa cambiare e fornire altresì gli strumenti alle giovani generazioni per poter capire, comprendere sempre di più la realtà che ci circonda. Promuovere il pensiero della differenza significa promuovere una storia delle donne che molto spesso è stata taciuta all'interno dei libri di scuola, dei programmi istituzionali sull'educazione ma che con convinzione riportiamo alla luce e riportiamo alla conoscenza di tutte e di tutti.